È stata una partita difficile perché sapevamo di incontrare una squadra forte che in casa ha quasi sempre vinto. Noi ci mancavano anche diversi giocatori, ma già da diverso tempo. Il risultato di oggi è un risultato importante. Dobbiamo continuare così perché il campionato è lungo e difficile. Noi abbiamo fatto questa credo sia l'ottava partita in 24 giorni. Abbiamo giocato dopo un periodo che abbiamo avuto 22 contagi di Covid. Una squadra che si è potuta allenare poco. Credo che abbiamo fatto tanto, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia perché già domenica prossima ci attende un'altra trasferta difficilissima che è col Bari. Noi dobbiamo continuare, dobbiamo cercare di salvarci e farlo il prima possibile. Ma le sorprese non credo più di tanto perché il Teramo è una squadra forte. Una squadra fatta con gente di qualità, gente che ha giocato in piazze importanti. Quindi secondo me il Teramo sta facendo un grandissimo campionato, un merito al Teramo e alla società. Il Plesch è un giocatore che è stata una mia scommessa, nel senso che è un giocatore che non ha fatto tanti gol in questi anni. Un ragazzo che io ci ho sempre creduto, il presidente ci ha sempre creduto e ora stanno vedendo i risultati. Quindi siamo contenti, ma non ha fatto ancora niente perché il campionato è lungo e speriamo che continui così.